Per un western? Ah, per quando sono stato stunt coordinator in cuori senza età. Dannata è Stalghetti! Ok. Cosa molto importante, non toccare la chiave! Non toccare la chiave? Non toccare la chiave, ora va! Non toccare la chiave, non toccare la chiave, non toccare la chiave! Uh-ha! Uh-ha! Oh, cazzo, ce ne siamo! Mi scusi, mi scusi, permesso, signora... Signora, mi scusi, scusi... Scusi! Quello è l'orco di Dubrovnik! Orco! 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 Accetta la mia rete di rimpianti! Ecco la mia rete dei rimpianti! Ci penso io, signore! Cosa è il sostegno che strada, questa è la mia rete di rimpianti! Quasi la lezione è inattica!